Ho scelto questa vacanza Giacca Mondo perché ho visto le foto sul sito e tra tutte mi sembravano le più belle, infatti qui mi trovo molto bene perché ci sono tante attività da svolgere tipo giocare a calcio, tutti gli sport, gli animatori sono molto bravi, ho trovato anche molti amici, mi sono trovato molto bene, sono tutti simpatici. I ragazzi stanno vivendo questo soggiorno con grandissima partecipazione, sono tutti attivi e partecipano a tutte le nostre proposte, stanno accogliendo quelle che sono le attività con entusiasmo e apprezzano tanto il tema da noi proposto. La Gioca Mondo seleziona solo strutture che rispondono ai standard di qualità stabiliti, valutando ogni aspetto tecnico-logistico per la perfetta riuscita dei suoi soggiorni. Grazie a tutti!